La sindaca di Battipaglia Cecilia Francesi, accompagnata dal comandante della Polizia Locale, il colonnello Gelardo Iuliano e il sindaco di Eboli Mario Conte, ha partecipato ad una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura. Presenti il prefetto di Salerno Francesco Russo, il questore Giancarlo Conticchio e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine. Sul piano generale si è discusso delle problematiche che accumulano a Battipaglia ed Eboli, come la sicurezza lungo la litoranea, la prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si è chiesta maggiore disponibilità di uomini e di mezzi per fronteggiare l'emergenza di sicurezza che riguarda anche i centri urbani, in particolare a Battipaglia dove ci sono stati diversi incendi d'auto. Le indagini sono a buon punto. Vi è già un raccordo tra le varie forze di Polizia presenti sul territorio e un ringraziamento è stato espresso al prefetto e al questore che hanno dimostrato massima disponibilità nell'intervenire nell'interesse della sicurezza delle comunità della Piana del Sele.